Immagini, Ginn, circa due mesi, in realtà in due fasi, prima e dopo le sue ferie, l'ha detto, ma va bene così, abbiamo fatto una serie di uscite e ovviamente di scatti fotografici a Trecallo, anche con la collaborazione del club Amici di Trecallo, che è il comitente originale, che voleva un'idea per festeggiare i suoi cinquant'anni. Qui fotograficamente la sfida è stata, ma cos'è Trecallo? Perché penso che a tutti noi, con la strada, che qua fa campione, nasce e finisce lì, insomma, e insomma, poi come tutte le cose, andandoci dentro, sono qui, insomma, è una realtà ridicale, anche piacevole proprio. In occasione del cinquantesimo c'è stata anche la visita pastorale del vescovo appena nominato cardinale, quindi festa della comunità cattolica di Trecallo. Questa è la sfida muscoliniana, che dice, abbiamo perso, una volta abbiamo perso la guerra, dobbiamo perdere anche loro. La vittoria fu mutilata una volta, e non è detto che possa essere mutilata un'altra volta. Sì, non è una frase, tra le tante. Sì, questa è rimasta. Appunto, Trecallo è un piccolo quartiere residenziale, quasi esclusivamente residenziale, perché non ha più attività produttive, in realtà ha ancora un'attività produttiva, perché è una villa in cui si fa agricoltura, forse anche agricoltura, ma per il resto non c'è più neanche un negozio. Non c'è neanche un negozio. Cioè, fine. È una strada, appunto. Questo però è trecalesimo, già l'abbiamo potuto dire. E la tua disperazione di trovare qualcosa? No, allora, intanto abbiamo fatto un libro, e il libro non è fatto per disperazione, ma è fatto per convinzione. Poi, adesso sta recitando la parte del fotografo. Qui c'è l'ombra del cammino. Questa è la sede del club, che fa una discreta opera di coinvolgimento sociale, soprattutto, ovviamente, della fascia anziana di persone, ma non solo in realtà. Ci passa persino la ferrovia, la Trecallo, che non è poco. Ci passa solo, infatti, alla Fermate e Albate e Trecallo. La Fermate e Albate e Trecallo. In territorio di Albate, ma infatti, come ho detto prima, Trecallo e forse di Albate. Ci sono proprio a discutere. Sì, adesso l'ho spostato la fermata dalla stazione Nord. Eh sì. Ecco, questa è l'attività. Questa è... Poi, ecco, il Gin si è illuminato quando ha visto il Munche. Perché ha trovato finalmente dei soggetti... Vivi. No, vivi, cioè... Reattivi. E questo è interessante. Questo è... E questo è... E questo è... E cos'è? Sapete che cosa sta manipolando il Signore? Boh, qualcosa che serve per l'industria del test? Sì. 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 Ma la radice della... Non so come è deciso come si chiama. La radice della fissofesta. Questa è sostanzialmente un'incubatrice per bacchi da seta. Nel senso che su quelli telaietti e su quei fogli forati venivano messi il seme bacchi. Quindi, come dire... L'origine dei bacchi che poi progressivamente crescevano. Dopo venivano spostati sui bocchi, i detti boschi, cioè i rami di gelso. No, i rami non sono di gelso. E poi allevati con le foglie di gelso. Fa le quattro mute, eccetera, eccetera. Non sono stiamo chiamando a cantarla. Questa è... La vita del fotografo è quella di farlo sembrare in un posto sensato. Perché in realtà era indescrivibile di roba, una sopra l'altra. E infatti il proprietario non voleva. E poi si è voluto gravare perché non stava bene. Questa è la foto a cui teniamo di più. Niente, questo era per mostrarvi.